Però c'è una contraddizione con il discorso dei due giovani, perché meglio la prostituzione che non la droga. Intanto voglio chiedervi, chi è a favore della... Ma aspetta, chi è a favore della... No Vittorio aspetta! Ma poi cominciano a dire, hai rotto il cazzo! Ma vieni qua! Uno comincia un discorso e l'interrompo. No ma... Vai dal mio culo! Vieni qua Vittorio! Chi è a favore della liberalizzazione e della prostituzione? Eh, pensavo di più. Vittorio, mi interessava solo questo! Vieni, mi interessava solo questo! No ma aspetta, porta un cazzo discorso a pena di uno... Ma vieni qua, vieni qua! Dai Vittorio! Ma non sei capace di condurre... Vieni qua, vieni! Vieni a andare a casa, prostituzi... Me lo dico in tanti, vieni, vieni qua! Volevo semplicemente... Se me la lasci di dire la dico, te vado a fare il culo, ti prendo... Vai dillo! Allora dico questo. Hanno fatto una distinzione apparentemente logica, ma è più grave che uno si droghi per una sua inclinazione o destino personale, oppure che sia sfruttamento delle persone. Quindi è più grave la prostituzione, se non è libera. Una cosa è la libertà di darla, una cosa è una persona costretta a darla da chi la sfrutta, che è peggio della droga. Quindi se noi fai passare dei concetti sbagliati, risulta che drogarsi è un crimine, e che invece il prostituzio non è giusto, soprattutto se non lo fa spontaneamente. Mi pare chiaro, no? Ma infatti è quello che hai detto... Non posso finire, però ogni volta non dici quel cazzo che vuole, e non usa il cervello. Ma è quello che avevi detto prima. Ho semplicemente sentito due discorsi di ragazzi simpatici, che hanno detto, meglio prostituirsi perché fare l'amore è bello, ma non fare l'amore per forza, se qualcuno ti sfrutta, perché la tratta di persone è peggio della droga. E' quello che volevo dire. In questo senso. Ma è quello che avevi detto. Sembrava passare l'idea che prostituirsi è un fatto bello, nobile, carino, perché è tanto fare l'amore. Certo, se uno lo fa come la ragazza di prima, spontaneamente, senza un assolutatore, o se è d'accordo con l'assolutatore per dividere i propri propri, ma se uno è una schiava del sesso, è peggio essere schiave.